Ciao a tutti d'Anteprima Cinema. Vediamo il trailer dei Pirati dei Caraibi oltre ai confini del mare. A dopo con le news di oggi. Quasi tutte le volte che preferisco guardare il mondo attraverso un bicchiere. Di rum. Questa è una bottiglia. Avrete anche sentito girare voce che Jack Sparrow sta reclutando una ciurma per intraprendere un viaggio alla fonte della giovinezza. Non vero. Proprio no. Ma anche se non fosse non vero. A voi non interessa unirvi a me, no? Morte sotto di noi che facciamo vela per la fonte della giovinezza. Potete guidare una spedizione. Voi siete Jack Sparrow. Avete omesso un capitano, mi pare. Corre voce che Jack Sparrow sia a Londra, deciso a trovare la fonte della giovinezza. Non essere sciocco, Jacky. La fonte ti metterà alla prova. Era proprio necessario? Signori, la fonte è il premio. Solcheremo i mari delle sirene. Alla via così. Che gioco fai, Jack? Solo per dirvi che prendo il comando della nave. Niente di personale. Farro vena a chi ho terra ancora la cabeza. È meglio per voi se per ora... Bene, restate lì. I pericoli abbonderanno. In specie, sirene. Zombie. Barba nera. Terrore degli altri pirati. Se io non raggiungerò la fonte, di certo non lo farai tu. Hai finito? Direi di sì. È cominciato. Ritorna! Siamo o no, uomini del re? Com'è che non riusciamo a vederci senza che mi punti contro qualcosa? Ecco il Jack che conosco. Vendete caro la palle! Vi è mai capitato di stare in un posto molto alto e voler saltare? A me mai. Avete visto tutti? Perché col cavolo lo faccio un'altra volta! Quarto capitolo della saga disneyana, Pirati dei Caraibi, oltre i confini del mare, uscirà in Italia il 18 maggio 2011 in 3D. Molte novità rispetto agli episodi precedenti. Il regista Rob Marshall sostituisce Gore Verbisky, mentre Orlando Bloom e Keira Knightley hanno lasciato il posto alla spagnola Penelope Cruz. Johnny Depp interpreterà come sempre il pirata Jack Sparrow, alla disperata ricerca della fontana dell'eterna giovinezza. Pete Doherty, il frontman della band inglese Baby Shambles, celebre per la sua turbolenta storia con la modella Kate Moss, si dà al cinema. Costretto a vivere in Francia a causa dei numerosi problemi con la legge britannica, Pete ha accettato di interpretare il poeta e dramaturgo francese Alfred de Mousset in un film in costume al fianco di Charlotte Gainsbourg. E per oggi è tutto, arrivederci d'anteprima cinema!